Innamorati di un calcio che non c'è più, nostalgici quanto basta per continuare a muovere le pedine sul panno verde. All'ultimo piano di un palazzo sul pubblico passeggio ogni settimana si rivive la magia del subutio grazie a un gruppetto di irriducibili che tiene vivo il movimento dello storico gioco da tavolo ispirato al pallone. Al venerdì sera infatti questa setta di appassionati composta da una decina di persone si dà appuntamento in una cornice da altri tempi. Uno dei giocatori è Stefano Torre, collezionista e campione provinciale di subutio in carica dal 1987, ultimo anno in cui si è svolta la competizione ufficiale. Giocare subutio significa rivivere certe sensazioni delle certe emozioni che oggi non è più possibile trovare se non qua. Noi altri facciamo finta di giocare i campionati della fine degli anni 70 e inizio degli anni 80. Abbiamo le stesse squadre, abbiamo cercato di replicare le stesse maglie verniciate sulle miniature del subutio. Da cos'è composto questo regno del subutio? Abbiamo un tavolo realizzato esattamente con i materiali originali, cioè un campo a stropice, delle porte d'epoca con delle reti tutte un po' rabberciate e le transenne originali che ormai abbiamo il terrore di staccare perché potrebbero rompersi visto che la plastica ha 50 anni oramai. Qual è la squadra più caratteristica? è decisamente questo Piacenza 1979, la maglia è quella dell'Admiral e tra l'altro si riconoscono alcuni giocatori come il biondo Skoglund e poi c'è anche Secondini qua che da qualche parte era stato caratterizzato. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.